Aiz! Non ci ho detto! Vecchi bambini no! Dentro! Vanno lavorate! Giù! Vai! Giù! Los! Andiamo ragazze! Su Sveite! Su Bele! Di qua! Los! Questa è una nuova. Ha imparato subito. Quella di sopra poi che ci ha fatto uscire. Quando è arrivata sembrava buona. È la peggio di tutto. Almeno non ha mandato le vecchie bambini a lavorare. Senti, le vecchie bambini non li mandano a lavorare perché li ammazzano tutti. Uno di questi giorni li chiamano per fare la doccia. Bambini, la doccia, la doccia! Solo che la doccia gliela fanno lei. Nella camera a gas. Che fai? Slevi? Bele! Che fai, che fai con gli altri! Giù! Giù! Ma come si fa? Oh! Vittorino! Ma andò l'anno trovate tutte queste incutini? Babbo, babbo! Giosuè! Che ci fai? Non ci puoi stare! Vai via! Non ti fa vedere! Vai via! Perché non stai con gli altri bambini? Perché ho sentito dire che i bambini devono fare la doccia e io non la voglio fare! Vai a fare la doccia! No! Sì! No, non ci vado! Sì, vai a fare la doccia! Guardate! Guardate! E che fate, babbo? E stiamo facendo il carro armato! Ci costruisci il carro armato! Siamo ancora i cingoli! Siamo indietro! Ci diverte! Non ci puoi stare qui, ti ho detto! Vai a fare la doccia! Vai via! Non ci voglio andare! Non ci voglio andare! Non ci voglio andare! Dess'è stata dura! Io lo dico alla mamma! Perdi 10 punti! Perdi! Nasconditi lì dietro! Che quando ho finito si torna insieme! Non ti fa vedere! Ci diverte! Perdi 10 punti! Perdi 10 punti!